Io sono partito due anni e mezzo fa per andare a ricercare tantissime cose e sono ritornato e adesso riparto da qui oggi e riparto con voi le uniche due parole che posso dirvi è buona vita a tutti. L'inizio si perde in un attimo, siamo tutti Mohammed Ali e come sono meno male stop e meno male tutti i giorni ad incassare la vita al sorridere scarpe sopra il tuo divano, dire al vero amore che non era vero, voglia avere voglia come un primitivo che tra vivo e muoio. Voglio 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 Voglio